Ciao a tutti, ecco un gruppo di vecchie carampane cornute che negli anni hanno maturato tutta una serie di corna vedete, poverine, oramai le portano tranquillamente in modo da non rendersene neanche più conto ecco qua vedete che fine, l'evoluzione delle malgascione sono le carampane cornute vedete qua gruppi di carampane che si socializzano tra loro e il post malgascione post malgascione, eccole qua, le carampane cornute sono tutte lì tranquille perché oramai diciamo che le portano anche bene non se ne fanno più un problema bene, sono contento, abbiamo dei nuovi protagonisti della nuova serie tv, le carampane le carampane cioè post malgascione, eccole qua, vedete che si avvicinano, pacifiche oramai le corna si sono veramente materializzate